La grande farsa dell'abbattimento del ferro di cavallo, la storia come ho detto mi darà ragione, stanno spendendo milioni e milioni di euro per abbattere il ferro di cavallo, hanno effettuato una serie di sfratti, quindi delinquenti e criminali pregiudicati, si sono già spostati in via Lago di Capestrano dove ci sono case vuote e ho registrato negli ultimi giorni sette occupazioni abusive, quindi si tolgono dal ferro di cavallo, vanno a 100 metri e si posizionano nelle case vuote. Ricordiamo che in questo momento ci sono 100 abitazioni popolari vuote non assegnate nella città di Pescara pronti per essere occupati, quindi cosa avrebbero dovuto fare? Invece di spendere un milione di euro per abbattere un patrimonio pubblico, il patrimonio pubblico si ristruttura, i delinquenti criminali si cacciano dalle case popolari, contestualmente si inseriscono i cittadini onesti che sono in graduatoria e quindi vai davvero a ripulire una zona, non facendo una farsa e facendo credere ai cittadini che qui la situazione si sta risolvendo con l'abbattimento del ferro di cavallo. Non a caso due giorni fa giovedì c'è stata l'ennesima sparanottoria, hanno sparato colpi di pistola contro una macchina, tra l'altro io mi trovavo in via lago di Borgiano, vengo sempre anche i giorni di festa a effettuare un sopralluogo vicino ai palazzi che dovrebbero abbattere e che non hanno abbattuto, quindi la situazione qui è pericolosissima, è un fazzoletto di terra come lo chiamo io maledetto, pieno di criminali e di pregiudicati dove comunque si delinque alla luce del sole, c'è spaccio di droga a tutte le ore, i cittadini onesti hanno paura, mi chiamano, ci chiamano, non ce la fanno più a convivere con questa delinquenza, la ricetta io l'ho detto da tempo, purtroppo non mi vogliono ascoltare, se si facessero davvero gli sfratti col contestuale assegnazione dei cittadini onesti, è sicuramente una supervisione da parte degli organi deputati alla sicurezza e all'ordine pubblico il problema si potrebbe contenere, non risolvere ma contenere. Purtroppo siamo ancora a denunciare queste situazioni, io ho detto l'altro ieri non sottovalutiamo queste cose, io ho il dovere di raccontarle di accendere un faro perché tra quell'arma e quei proiettili ci potrebbe restare un figlio della nostra terra, qui ci sono tante cittadini onesti, significa che un figlio della nostra terra poteva cadere a terra, magari sbattuto a terra e poteva interrompersi tutti i sogni della sua vita. Ecco attenzione, non sottovalutiamo, non abbassiamo la tensione dove ogni tanto si spara, ogni tanto qualcuno ha una pistola, la caccia e spara, in questo quartiere questo si fa, non si può abbassare la tensione perché se si abbassa, questo è il mio dovere istituzionale, se si abbassa la tensione vuol dire che noi poi il problema non solo non lo risolveremo ma faremo credere che qui la situazione è tranquilla, la situazione non è tranquilla.